che era? era bello mi sa ballare rega Nandir, presenta questo video tu che sei un local legend un local legend, allora stasera andiamo a ballare la cosa stasera, ecco siamo qui a Medelana metti un po' di enfasi in questo video, naturalistico, ciao amici è naturalistico, ciao amici siamo qua a Medelana e qua parte la bionda e allora signore e signori buonasera allora partenza velocissima in questo, non so se è un castagneto però un alberetto, delle pump track non saltate perché se no non ce la fate qua c'è una curva con un salto che non mi ricordo bene tutta la linea sono uscita dai sassi poi arrivi qua che c'è una bellissima sponda fra un po' rock garden in modalità XC vai vai cazzo te ne frega Luca Luca è prima volta che la fa quindi seguiamo uno che lo fa la prima volta quindi occhio qua, non saltare troppo curva destra curva destra aspettiamo il negro aspetta aspetta si qua dritto linea diversa, vi ho fatto vedere è la linea perfetta per il taglio qui sono venti la l'orizia la la di rilancio vi vorrei far notare l'outfit di luca modalità boxer tamponato abbiamo fatto un mega tamponamento io piegato era drissato il cerchio luca prova ma per me vanno più forti track walk per la dear venturi questa è una parte più tecnica Dalla bionda Dai che è buio Dai Sam vai Dai Samuele Dai Nati Si è sempre così Io vado pollege Dai Samuele Qua è bellissimo però Vai mettere un posto lunare Occhio qui all'ingresso Però teneva Pensavo fosse peggio Pensavo fosse peggio Giungla Giungla E' dalla giungla Il jungle E qua si entra in ultima parte Scassata dalla bionda E qua si entra in ultima parte Oh Oh I Vi Te Tu Que E E E E E Sì Oh Trail finito Abbiamo potuto vedere Luca, Fanini nella prima parte la seconda parte il professionista del team Lux Performance Nadir Venturi Stamattina alle 5 ho visto Simo al pastaro della muffa mi fa, oh dove vai vecchio? gli faccio a casa ah vado a Urbani vado a correre Tanta roba Puoi salutare i miei amici Ciao amici di Leonardo Cendou se siete i suoi amici siete anche i miei amici Cliccate e segui Tappa la GoPro saluta la cia Grazie